C'è un posto che si chiama Napoli, dall'altra parte della costa, ed è l'opposto di Napoli, c'è un posto tranquillissimo C'è un posto di Sabia, poi c'è anche Sicily, che è qui, Torino, guarda che c'è Verona, nello stato di New York c'è Verona, ci sono tutte le città Deve stendere un uguale, non è americana, non è americana, piano, cazzo, pig, pig di qua, pig di là, diciamo che non è peppa pig ma è assolante con pesante, poi c'è dog e pig, dog e pig, eccetera Vabbè insomma, invece ve lo provi di un'altra roba perché sono rimasto veramente poplasso, cosa cazzo ridi tu, cosa vuoi? Cosa vuoi Pippo? Che cazzo? No, 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 non è Pippo, non è Pippo, è i Simpson di Pippo Perché io conosco l'inglese, cosa cazzo? Si, infatti, però, ragazzi, lasciamo stare le barbini perché fanno un rippo del lozono in un collo, c'è quello che si inietta l'atmosfera nel collo, scelmare, si inietta l'atmosfera Aspetta, 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 fatemi un po' zizzagnare con gli ascoltatori perché un sacco di gente mi scrive, ovviamente scherzando, spero, è forza meno, è forza meno, è forza meno, ora io mi voglio fare in apposire in cambio Vigo solo il titolo, canonerai in bolletta, fino ad ora è incassato un miliardo di euro Un miliardo di euro per cosa per vedere ancora Magalli l'ha calmato del popolo io, io, Magalli e poi l'altro ieri lo guardai tutti i giorni forse la gente non lo sa allora se andate su Facebook lo trovate Magalli ha infatti